Come vedete c'è il ritorno di Campagnolo nella gamma, non c'è più SRAM oggi, è tutta la gamma, avevamo due modelli l'anno scorso su Red e Rival, però quest'anno siamo partiti su un partnership con Campagnolo, qua sul Centor e sul 740 sull'Athena, vedremo dopo il Max 740, il telaio e la bicicletta che usano la nostra squadra di Junior che si chiama U19. Avete fatto la presentazione? Sì. Dunque qua siamo sul Max 720 con il gruppo Centor completo, dunque incluso i freni. Le ruote uguali della Campagnolo, sono i modelli Kamshin montato con le gomme a cinzane Kinox compatto 50-34 con la cassetta 12-25. Una sella Prologo, componenti qua uguali, dunque oversize alluminio e attacco alluminio in between. Come ho detto prima, la scatola DSC per diventare alluminio che è venduta 1.600 in negozio oggi. Qualche domanda? misure. Quante misure? Questa è un 57. Quante misure? Ah, quante misure? Ne abbiamo 6, 6, 51, 61. 51, 53, 55, 57, 59, 61. .